Bergamo vince anche a Bolzano 3 a 1, Gianluca Graziosi non belli ma pratici. Ma sì, io l'avevo tra virgolette messo in preventivo dopo quello che era successo a Gioia del Colle mercoledì sera, una battaglia, 5 set, abbiamo sprecato tantissime energie dal punto di vista mentale, siamo arrivati a Bergamo, non ci siamo allenati, ripreso, ripartito, quindi mi aspettavo comunque stanchezza ma non tanto fisica più che altro mentale e vabbò, non abbiamo sicuramente espresso la nostra migliore pallavolo, però è vero pure che se vinci e non giochi bene puoi essere soddisfatto perché siamo qua per lavorare, per provare a giocare meglio e quindi mi auguro che il giorno che esprimeremo la pallavolo che io penso, che io desidero, poi le cose si semplificano. L'impegno di Gioia del Colle forse ha inciso proprio nel terzo set quando era il momento di chiudere, poi però i ragazzi sono stati bravi a non concedere molto all'avversario e chiudere un 3 a 1. Sì, senti, noi in questo momento ci fidiamo tantissimo delle nostre qualità, quindi non siamo ancora cannibali, nel senso che ancora non riusciamo a capire che a volte le partite come queste vanno chiuse e vanno chiuse prima. Noi andiamo sempre alla nostra marcia leggermente ridotta, però c'è da dire poi che la squadra poi ha qualità e quindi riesce a portare a casa il risultato. Anche perché il bilancio dice 5 vittorie, meglio di così, effettivamente. Ma sì, sapevamo che questo era un ciclo terribile, noi abbiamo giocato domenica con in Tuscania 3 punti, mercoledì a Gioia del Colle 2 punti, oggi comunque è una partita fuori casa, altri 3 punti, quindi possiamo più che mai ritenerci soddisfatti per quello che stiamo facendo. Sappiamo tutti, tutti, da io e i miei collaboratori, ragazzi, che dobbiamo comunque lavorare per esprimere una parola ancora migliore, perché se vogliamo puntare in alto sappiamo che dobbiamo giocare meglio degli altri, perché forse a livello di singoli e di rosa qualcosina rispetto ad alcune squadre ci manca, quindi dobbiamo puntare tutto sul gruppo e tutto sul gioco. Lavoriamo, piano piano non ci riusciremo, sono fiducioso.